Buonasera a tutti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ultimo del 24 ottobre scorso, fra le varie statuizioni, stabilisce che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono consentite soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti in interesse nazionale dal Coneo e dalle rispettive federazioni nazionali. Ciò significa che per quanto riguarda la pesca tutte quelle che sono gare non organizzate dalla FIPSAS nazionale, quindi attualmente le gare che risidono, quelle dei laghetti, quelle sociali e altre gare di questo tipo, non sono consentite. Però si potrà andare a pescare liberamente, come in ogni luogo, laghetti, canali e quant'altro. Gli allenamenti non sono consentiti del pari se non legati alle gare federali, per cui quando sentite parlare di allenamenti o prove con la NAS, eccetera, in realtà sappiate che non sono consentite. Ma possiamo comunque andare a pescare liberamente ognuno per conto nostro o comunque in compagnia mantenendo le debiti distanze sempre nell'osservanza del distanziamento e con l'uso sempre delle mascherine. Grazie.